Musica Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo che questa settimana si è riunito a Strasburgo in sessione plenaria. Approvata dall'Aula, l'istituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. La commissione avrà un anno di tempo per valutare l'estensione dell'impatto della criminalità organizzata sull'economia e sulla società nell'UE. Rosario Crocetta ha salutato con favore questo voto. Io ritengo che sia oggi un grande risultato per il Parlamento Europeo perché quanto il 15 luglio scrissi al Presidente Buzzec dicendo dobbiamo costituire una commissione antimafia. Io ricordo che c'erano tanti colleghi di diversi paesi che dicevano che la mafia è un problema della Sicilia e dell'Italia. Oggi avere riconosciuto da parte dei colleghi del Nord, di tutta l'Europa, che esiste un problema a crimine organizzato in Europa e avere la volontà di lottare tutti insieme, io credo che sia un fatto grande e importante e io voglio dire grazie Presidente e grazie a tutto il Parlamento. Sempre d'attualità il fenomeno della pirateria che colpisce soprattutto nell'oceano indiano e a largo delle coste somale. Così come è sempre aperta la vicenda che vede coinvolti due militari italiani accusati dell'omicidio di due pescatori. Deborah Serracchiani è intervenuta in aula. Il problema della pirateria non è nuovo per questa sede ed è stato trattato da questo Parlamento con la risoluzione del 2009. È nota la vicenda che ha coinvolto due militari italiani in arresto con l'accusa di aver provocato la morte di due pescatori indiani. In proposito vanno accolte con favore le assicurazioni dell'alto rappresentante per la politica estera, la baronessa Catherine Ashton, che ha detto di seguire con attenzione il caso facendo tutto il possibile per risolverlo positivamente. È che l'episodio va inserito, cito testualmente, nel più vasto contesto della cooperazione internazionale contro la pirateria e più specificatamente nel quadro delle regole per la protezione a bordo delle navi. Ma l'episodio impone di riflettere sul fatto che il fenomeno della pirateria nell'oceano indiano o a largo delle coste somale è ancora un problema estremamente scottante. Confronto in aula tra Commissione, Consiglio e Parlamento sui risultati dell'ultimo Consiglio europeo dell'1 e 2 marzo scorso. Dall'aula giunge una forte richiesta di affiancare al raggiungimento della stabilità finanziaria una politica per la crescita e l'occupazione. Sono intervenuti Sergio Cofferati e Roberto Gualtieri. C'è un'unica insistenza e un unico obiettivo che è quello della stabilità finanziaria e delle azioni necessarie per garantirla. Non sarò certo io sottovalutare l'importanza di questa direttrice, però è del tutto evidente oramai che senza crescita le condizioni di milioni di persone in Europa sono destinate a peggiorare. E la sottovalutazione sugli effetti sociali dell'arretramento di tutte le nostre economie è davvero, come dicevo, sorprendente e preoccupante. Nel corso dei prossimi mesi noi rischiamo senza investimenti e senza il rovesciamento di questa tendenza di avere enormi problemi sociali. Allora gli euro bond e la tassa sulle transazioni finanziarie non sono strumenti qualsiasi. Sono l'unica strada percorribile per avere rapidamente un'inversione di tendenza che dia una prospettiva positiva a milioni di persone. La soddisfazione per lo scampato pericolo è comprensibile, ma non dovrebbe far dimenticare gli errori e i ritardi degli ultimi anni oltre al ruolo decisivo svolto dalla BCE e dal nuovo governo italiano. E soprattutto la soddisfazione non dovrebbe impedirci di affrontare l'enorme problema strutturale che le politiche di questi mesi non hanno risolto. La strategia di una deflazione dei salari indotta da politiche di austerità come alternativa alla svalutazione non è sostenibile economicamente e socialmente, non è egemonica politicamente. Smettiamola con le caricature. Qui nessuno propone il deficit spending. Noi pensiamo però che affiancare alla responsabilità fiscale a livello nazionale un rilancio degli investimenti e della domanda è possibile. È possibile con una più equa distribuzione della ricchezza, è possibile affrontando gli squilibri macroeconomici, è possibile attraverso grandi investimenti a livello dell'UE, è possibile costruendo una gestione comune dei debiti attraverso un fondo per la redenzione del debito. L'Aula chiede misure legislative per l'introduzione di quote per rafforzare e aumentare il numero di donne nella vita politica ed economica all'intervento di Silvia Costa. Credo che fare un bilancio e indicare obiettivi avanzati per la parità fra uomini e donne in questo marzo 2012 significa confrontarsi proprio con i dati drammatici della crisi economica che vede risalire la disoccupazione femminile, specie tra le giovani, aumentare la povertà delle donne e constatare anche l'innalzamento della violenza contro le donne, soprattutto quella perpetrata in ambito privato. C'è una situazione quindi di sofferenza acuita dai tagli di molti stati al sistema di welfare, dell'istruzione, della previdenza che ha colpito soprattutto le donne. E io credo che ci sia un nesso fra questa situazione e la perdurante esclusione delle donne dai luoghi decisionali e quindi da una sottovalutazione dell'impatto sulle donne della crisi e delle politiche. In questo scenario i due rapporti focalizzano alcuni obiettivi condivisibili. Un più forte orientamento della programmazione dei fondi strutturali 14-20 ad azioni anche mirate alle donne, l'indipendenza economica valorizzando anche l'impeditoria femminile con fondi di garanzia e strumenti di sostegno, il superamento del gender pay gap rivalutando professionalità e lavoro femminile, il divieto di comportamenti discriminatori, per esempio nel mio paese le dimissioni in bianco prefirmate. Rilanciare l'iniziativa sul processo di Bologna avendo come obiettivo il riconoscimento del titolo di laurea oltre i confini nazionali per permettere una maggiore integrazione nel mondo del lavoro. Luigi Berlinguel è relatore del testo approvato. L'obiettivo di questo rapporto è di rilanciare l'iniziativa sul processo di Bologna avendo in mente e davanti a noi una meta importante, e cioè che i titoli che si conseguono presso le università sul territorio europeo devono avere un valore e una validità generale. Se si consegue un titolo in una università di un Paese membro, deve essere tale che tutte le altre università lo riconoscono. Questo è l'obiettivo principale. È un errore considerare l'università come un'attività esclusivamente interna allo Stato. La dimensione vera dell'Università e del luogo degli studi è internazionale, perché sono internazionali gli studi e le ricerche, sono internazionali ormai le professioni. Occorre liberare il mercato dalle professioni, dai lacci e dai laccioli, che oggi ostacolano la mobilità del lavoro all'interno del territorio europeo. Questa è una precondizione che ha un valore economico e ha anche la risposta ad una grande aspirazione giovanile. A chi spetta questo compito? Ai singoli Stati membri, l'organizzazione degli studi. Ma il riconoscimento all'estero non è compito all'interno dello Stato, è compito dell'Unione Europea, che deve provvedere e deve fare una politica che deve incentivare. L'Unione Europea è il principale consumatore mondiale di cacao. Il nuovo accordo internazionale ha lo scopo di rendere il commercio mondiale di cacao più eco e sostenibile. L'Aula però chiede maggiori garanzie per eliminare il problema del lavoro minorile dalla produzione del cacao. Sentiamo Gianluca Susta. Gli obiettivi dell'accordo sono tutti condivisibili e quindi va approvato. Tuttavia noi non possiamo dimenticare la grande questione sociale che attraversa questo settore. Un commercio che migliori la qualità delle produzioni, sostenga prezzi giusti, sviluppi il settore, non può non provocare anche il miglioramento delle condizioni economiche e di vita dei 5 milioni e mezzo di piccoli agricoltori e dei 14 milioni di lavoratori che dipendono dalla produzione del cacao. Proprio perché quella europea è la principale industria del cacao al mondo, dobbiamo spingere i nostri trasformatori e chiedere loro che si impegnino contro lo sfruttamento minorile e per una catena del commercio del cacao sostenibile ed equo. A questo mira la risoluzione proposta che proprio per questo merita il nostro sostegno. Grazie. Ridurre le emissioni di carbone dell'80% da qui al 2050 resta uno degli obiettivi principali della politica energetica europea. Mario Pirillo, relatore per parere, è intervenuto nel corso del dibattito. L'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 dell'80-95% nel 2050 ci consente di gettare le basi per un'economia europea post carbonio. Occorre avviare una nuova rivoluzione industriale basata sul ripensamento del sistema produttivo coinvolgendo l'intera sfera socio-economica che crei una maggiore consapevolezza del consumo di energia e un efficiente utilizzo del territorio. La ricerca avrà un ruolo centrale per sfruttare in pieno le energie rinnovabili. Con obiettivi certi e vingolanti potremo preparare il settore industriale verso una transizione preservandone la sua competitività a livello globale. L'Europa deve essere fiera per aver avviato a tutti i livelli questo percorso a tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico. Con l'ambiente non è possibile negoziare. Ecco perché dobbiamo insistere sulla soluzione che ci portano ad emissione zero. E sono fermamente convinto che l'energia nucleare non debba far parte del mix energetico. Epilogo positivo della controversia tra Unione Europea, Stati Uniti e Canada sul commercio di carne agli ormoni che ormai si trascina da 20 anni. L'accordo permette ora all'UE di mantenere il divieto di importazione di bovini trattato con gli ormoni in cambio di un aumento delle quantità di carne bovina di alta qualità che può essere esportata nell'UE da Stati Uniti e Canada. L'Italia figura tra i maggiori beneficiari del nuovo accordo. Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura. Il voto per l'apertura del contingente tarifario per le importazioni di carne bovina di alta qualità segna un importante momento per la buona cooperazione transatlantica. E per la prima volta, grazie al Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è fondamentale per approvare questo tipo di decisioni. Ciò aumenta l'interesse e la comprensione degli Stati Uniti verso la nostra istituzione, come abbiamo verificato direttamente durante gli incontri con il Congresso americano di una delegazione che la Commissione Agricoltura ha avuto nello scorso giugno. Questo accordo pone fine ad una lunga e dannosa controversia, permettendo così la revoca integrale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, mantenendo allo stesso tempo il divieto riguardo alle importazioni di carne trattata con ormoni, a garanzia dei nostri alti standard di qualità e sicurezza alimentare. Più semplificazioni e più incisività nella distribuzione delle risorse per migliorare la politica comune della pesca, a vantaggio soprattutto dei paesi più deboli. L'opinione del Vice Presidente della Commissione Pesca, Guido Milana. La Commissione deve intervenire perché ci troviamo di fronte ad una sotto-esecuzione dei fondi. La sua mossa è stata intelligente per accelerare questo processo. Ottime sono le considerazioni fatte dal collega Ferreira perché in questa direzione puntualizzano alcune questioni. Io non credo che nella esecuzione di questi due anni noi possiamo trasformare la politica comune della pesca, ma penso che possiamo direzionare nella maniera giusta queste nostre risorse, soprattutto nei paesi più deboli e che hanno in questa fase maggior bisogno di sostegno. Aggiungo che per rendere efficace questa spesa, signor Commissario, suggerirei anche che nella fase di esecuzione si possano semplificare le procedure. Io metterei un punto di attenzione in questo senso. A volte uno sguardo in più alla esecuzione della spesa e alla semplificazione delle procedure può aiutare ulteriormente questo processo. Solo una battuta, Presidente, sulla vicenda della Corte dei Conti. Bene, stiamo attenti a considerare il rapporto della Corte dei Conti come omogeneo per l'Europa. Dentro quel rapporto ci sono zone e zone dove l'efficacia è stata differenziata. Punto Europa termina qui. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. Grazie a tutti.